Ciao a tutti, in questo micro tutorial voglio farvi vedere come si realizza il cordoncino tubolare con l'uncinetto, in un precedente video tutorial vi avevo fatto vedere come si realizzava lo stesso cordoncino con l'ausilio dei ferri, dei due ferri piccoli a doppie punte per eliminare la lavorazione con la caterinetta, cioè con questo attrezzino che vi permette di lavorare il tubolare in maniera meccanica, voi inserite i vostri punti all'interno degli uncini che sono sistemati all'interno del tubicino di plastica, poi girate la manovella e esce fuori il tubolare. Non tutti però hanno voglia di acquistare questa macchinetta e francamente personalmente preferisco realizzare tutti i miei lavori a mano. Quando ovviamente ho magari delle esigenze di tempo, nel senso che devo realizzare diversi pezzi ordinati in maniera veloce, uso anch'io la caterinetta per velocizzare il lavoro, però è un lavoro troppo uguale, troppo meccanico. Io amo personalmente che ciò che ho realizzato con le mie mani si veda che è stato realizzato a mano, insomma è una piccola pecca, però diciamo che ce l'ho. Realizziamo con l'uncinetto una catenella larga quanto volete, io adesso ve la faccio vedere di sei maglie, magari voglio fare un tubolare bello largo, più che altro per farvi vedere, però poi ovviamente voi deciderete lo spessore del filo, in questo caso io sto utilizzando, scusate mi interrompo, una volta che voi avete realizzato la vostra catenella, la chiudete in tondo con una maglia bassissima, fate fuori uscire il filo di lavorazione all'esterno e procedete con il lavorare. Vi dicevo, io lavoro con questo filo per farvi vedere come si realizza la la caterinetta, il tubolare all'uncinetto, però ovviamente voi utilizzerete il filato che più preferirete, dello spessore che più preferirete, più maglie mettete sulla catenella e più grande vi verrà ovviamente il vostro tubicino, il vostro tubolare. Procedete, vedete come sto facendo, a lavorare sempre le vostre maglie basse, una dietro l'altra, quindi lavorate sempre i giri concentrici di sei maglie basse, in questo modo, una, due, se volete rendervi conto del punto in cui siete, mettete il marca punti, ma penso che non sia poi così necessario quando lavoriamo il tubolare, e procediamo a lavorare sempre di continuo le nostre maglie basse intorno al dito, perché poi inserirete il vostro lavoro nel dito, e procedete a lavorare sempre di continuo intorno, fino a che non arriverete all'altezza del tubolare che vi occorre, in questo modo, vedete, è semplicissimo, veramente, anzi forse è anche più semplice lavorarla all'uncinetto che lavorarla ai ferri, viene diverso, perché ovviamente qua ci sono le maglie basse e nella lavorazione ai ferri invece noi ci ritroviamo la maglia diritto, questo è un tipo di tubolare diverso, però se noi vogliamo realizzare un progetto che ha bisogno del tubolare in maglia, possiamo farlo in entrambi i modi, all'uncinetto viene molto più ricco rispetto a quello che viene con i ferri, che è più lineare essendo una serie di maglie a diritto, voi avete il vostro tubicino, continuate a lavorare fino a che non avete raggiunto la lunghezza del vostro tubolare che vi occorre, e avrete realizzato così la vostra personale caterinetta manuale. Bene, il tutorial, il micro tutorial è terminato, spero come al solito di avervi aiutato, di avervi dato lo spunto per realizzare un qualcosa di carino, vi ringrazio come sempre per avermi seguito e ci vediamo al prossimo tutorial, ciao ciao!